Sono contento della vittoria e mi auguro che questa vittoria, li ho visti, non è che non avevano voglia, era un peso della non vittoria, è lungo, è tanto, quindi ritrovare la vittoria e mi auguro che questa squadra creda in quello che ho visto oggi, soprattutto nell'ultima mezz'ora, nel secondo tempo, perché quello che abbiamo visto nel secondo tempo io a loro gliel'ho visto fare in tante partite, quindi mi auguro che questa spinta e questa vittoria sia importante per la partita di Avellino, che non è sicuramente un amichevole, perché sono punti importantissimi che giocheremo lì e adesso lo possiamo dire per i playoff. Io mi auguro che questa partita ridia un pochino di autostima, quell'autostima che questa squadra secondo me deve avere perché ha delle qualità, abbiamo dei difetti, l'abbiamo dimostrato, però ha delle qualità, quindi l'abbiamo visto, siamo ritornati a fare tre gol, comunque poco tempo fa eravamo il miglior attacco, quindi su quelle cose bisogna continuare a battere e credere, perché ad Avellino ci giocheremo forse anche un settimo posto e non è da sottovalutare, perché vorrebbe dire giocare in caso della prima partita col doppio risultato, quindi non è che ci andiamo a giocare poco. Poi sarà una partita difficile, perché comunque abbiamo tanti diffidati, bisogna fare la scelta, fai giocare il diffidato, non lo fai giocare, però è una partita vera, perché tutte e due le squadre si giocheranno e c'è la possibilità di guadagnare ancora un posto nella nostra classifica, che sarebbe molto molto importante. Detto questo, poi finita Avellino, c'è subito la settimana successiva, capiremo quale sarà il nostro avversario e lì dovremo, sono partite dove devi fare pochissimi errori, chi sbaglia meno vince.